Beh, insomma, se per il PD gestire l'acqua pubblica vuol dire comunque sia lasciare una porta aperta anche alla gestione da parte dei privati di questo bene essenziale, per noi questo è veramente inaccettabile. Nel documento, infatti, presentato proprio dal PD della maggioranza, c'era questa opzione. Noi a questo punto abbiamo lottato in queste settimane affinché invece la gestione fosse al 100% pubblica e non si potesse tornare indietro. Il Movimento 5 Stelle, fin da quando è nato, lotta appunto per la difesa dei beni comuni e soprattutto per l'acqua. Ecco, da questo punto di vista la nostra lotta è stata molto forte, tanto che il Sindaco è dovuto intervenire in Consiglio Comunale per mediare un po' nelle posizioni da questo punto di vista e far sì che veramente l'acqua a Fano fosse pubblica al 100%. Solo per dimostrarvi, diciamo, visivamente il lavoro che è stato fatto anche in queste settimane, visto che il PD dice che ha portato solamente lui il documento in Consiglio Comunale, ecco, questo è il test originario del PD. Grazie alle nostre osservazioni, alle nostre battaglie, vedete come in realtà questo testo è stato modificato. Modificato in meglio, chiaramente, per la città perché veramente viene ribadito il fatto che la gestione dell'acqua sarà pubblica al 100%, non solo, si invitano anche gli altri comuni ad applicare questo tipo di gestione e chi ha ormai da tanto tempo, come Fano, la possibilità di avere questo bene al servizio pubblico potrà mantenerlo, tanto che addirittura in questo documento che verrà presentato nell'assemblea di tutti i comuni della provincia si ribadisce proprio il fatto che il Consorzio deve dare tutte le possibilità anche dal punto di vista dei regolamenti affinché chi ha scelto la gestione pubblica dell'acqua la possa mantenere. Fano è uno tra questi comuni, grazie al Movimento 5 Stelle questa battaglia è stata vinta.